Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare della funzione dei like e dei dislike su YouTube. Ovviamente si può mettere un like o un dislike senza dover commentare necessariamente, anche perché ognuno giustamente fa quello che vuole e quindi a libero arbitrio di mettere un like o un dislike senza commentare. Ovviamente è tutto correlato, il canale YouTube, l'apertura del canale pubblico, i like, i dislike e sotto la possibilità di commentare. Con il like, se vogliamo, si può anche omettere il commento, nel senso che con un like io dichiaro o comunque ti faccio capire che il video mi è piaciuto. Mi è piaciuto e posso anche non aggiungere altro, mi è piaciuto nell'insieme, mi è piaciuto il tuo pensiero, mi è piaciuta la tua idea, mi è piaciuto quello che hai detto, quello che hai fatto. Con il dislike il discorso è un po' diverso, io ti metto un dislike perché il video non mi è piaciuto. Perché non mi è piaciuto? In realtà richiederebbe una risposta, non mi è piaciuto perché non condivido, non mi piace quello che pensi, ti trovo simpatica, antipatica. Ognuno può esprimere la propria opinione che è anche diversa appunto dalla tua, che può essere diversa. Le critiche sono costruttive, senza critica non si ha magari la possibilità di migliorarsi, quindi quello che io dico e quello che tu vedi, quello che gli altri vedono può essere totalmente diverso. Quindi può aiutarmi nel migliorarmi, nel farmi capire altre cose, nel elaborare situazioni, insomma per in un certo qual modo anche evolvermi sotto diversi livelli. Le persone che mettono il dislike, perché a prescindere magari ti metto il dislike perché non ho neanche seguito quello che hai detto, oppure ho seguito l'argomento interessante, ma tu mi stai antipatica quindi io ti metto il dislike, non ha poi in definitiva senso, nel senso che metti un dislike e commenta sotto. Se tu, è quasi sempre così, i più accaniti, le persone più accanite che mettono il dislike sono quelle che magari sono iscritte al tuo canale, che magari rosicano, come si suol dire, gli dà fastidio qualcosa di te e al di là di quello che tu dici, di quello che tu esprimi, di quello che tu fai, ti mettono il dislike e sono magari quelli che ti seguono di più, quelli o quelle che non si perdono un tuo video. Quindi io ho notato che sul web si fa fatica a fare una critica, una critica costruttiva, nel senso che o ci sono i deficienti, quelli che insultano, io ho ricevuto insulti e parolacce sotto i miei video, ma sono fine a se stessi, insulti, sono da persone mentecate. Oppure a chi davvero non è piaciuto il tuo video e poi quella persona che non ha neanche il coraggio di scrivere il perché, un po' perché talvolta non si vuole fare riconoscere e un po' perché magari non è neanche in grado di darti un'opinione diversa dalla tua, non è neanche in grado di criticarti. E poi, appunto, volevo anche passare al fatto che quello che una persona posta sul proprio canale YouTube lo posta e basta, può piacere o non piacere. Non sei tu a dire che il mio video è utile o inutile, perché se tu vuoi dire quello che per te è utile o quello che per te è intelligente, ti apri un canale YouTube e ci metti la faccia, esprimi quello che pensi e dici per me è intelligente questo piuttosto che quest'altro. Quindi, l'avere poi il coraggio di esprimere le proprie idee, opinioni, passioni o quello che è, è comunque, a mio avviso, un modo per esporsi, un modo per avere coraggio, un modo per, in qualche modo, interagire con la piattaforma. Quindi, insomma, al di là del like e del dislike, che poi ha un'importanza davvero insignificante, se non magari per YouTube e per il suo algoritmo, la cosa essenziale è, c'è il fulcro di questo video, appunto, metti un dislike, magari costante perché lo fai, metti un dislike perché non ti è piaciuto quello che ho detto, esprimi la tua opinione. Che la tua opinione sia comunque rispettosa nei confronti di chi ha messo la faccia, perché intanto l'utile e l'inutile è tutto relativo, tutto è soggettivo. Ci sono persone che pubblicano quello che mangiano, ci sono persone che si truccano di fronte a una telecamera, ci sono persone che fanno qualunque cosa sul canale YouTube, eppure ha la sua parte, ha la sua fetta di, se vogliamo, di iscritti, di persone che li seguono, di persone che comunque hanno piacere di interagire. Con questo video è tutto, vi auguro una buona domenica, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio dalla Pink.